Mercoledì 12 giugno, Borgomanero ospiterà la quarta tappa del Giro Next Gen, ovvero il Giro d'Italia degli Atleti Under-23. Organizzato da RCS Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana, ha preso il via domenica 9 giugno da Aosta, con una cronometro. Il Giro, suddiviso in otto tappe per un totale di oltre 1000 km, si concluderà domenica 16 giugno a Forlimpopoli. Nuova Swift Hybrid, tutto di serie e senza sorpresa.